amici di youtube ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabian brosi.it quest'oggi vedremo come lavorare i file video con adobe audition perché si possono lavorare i file video con audition si si e può essere molto utile lo scopriamo in tre minuti la prima cosa da fare è selezionare la timeline che vogliamo portare in adobe audition fatto questo andiamo nel menu modifica e scegliamo ancora una volta la voce modifica in adobe audition qui abbiamo due opzioni lo abbiamo già visto nel corso introduttivo a premiere pro la prima è per esportare solo una clip in audition nel caso nostro vogliamo esporta esportare l'intera sequenza in adobe audition quindi clicchiamo su sequenza questa finestra ci chiede un po di informazioni intanto il nome che avrà il nostro progetto in audition quindi audio mix per esempio un nome a vostro piacimento la seconda opzione è la posizione in cui volete andare a salvare il progetto audition apriremo un progetto multi traccia in audition quindi viene richiesta una posizione in cui andare a salvare i file temporanei viene poi richiesta quale porzione della timeline vogliamo lavorare in audition tutta la sequenza oppure una sequenza da attacco a stacco con un in e con un out io utilizzerò tutta la sequenza quindi va benissimo la prima opzione insieme all'audio in audition verrà esportato anche il video esistono diversi modi per esportare il video da premiere ad audition possiamo utilizzare il dynamic link che è una sorta di collegamento diretto tra la timeline di premiere e audition è una soluzione da preferire se il video non ha effetti particolarmente pesanti e sicuramente se non avete lavorato a grandi risoluzioni se avete inserito molti effetti avete lavorato a grandi risoluzioni potete esportare il video di anteprima di v c'è anche la possibilità ovviamente di non esportare alcun video per l'esempio che stiamo facendo scelgo in via con dynamic link visto che il mio video è veramente molto molto semplice l'audio che viene poi esportato verso audition verrà esportato con una sorta di margine in testa e in coda e questo margine verrà stabilito in questo parametro qui possiamo decidere quanti secondi di clip audio esportare in più in testa e in coda in maniera tale da poter aggiungere magari transizioni o da poter anticipare o ritardare un pochettino l'audio se ne abbiamo bisogno c'è un tetto massimo che è di 9 secondi io metto 5 mi tengo nel mezzo rapidamente vado avanti mi assicuro però di avere spuntato apri in adobe audition in maniera tale che una volta che tutto sarà pronto potrò visualizzare già il progetto aperto in audition clicco quindi su ok questa operazione può richiedere tempo soprattutto se avete deciso di esportare il file video e non di utilizzare il dynamic link come ho fatto io a questo momento e questo è il risultato avrete una finestrina con il video che chiaramente potete inserire dentro ai pannelli a vostro piacimento e avete la timeline nella prima traccia c'è il file video che ovviamente non è editabile in questa sede ma sotto avete tutte le tracce audio che avete impostato nel vostro progetto premiere consiglio bloccate in generale le tracce in maniera tale che non possiate di default farle scivolare avanti e indietro e quindi perdere il sync selezionate le tracce tasto destro del mouse e scegliete poi la voce blocca tempo in maniera tale che per sbaglio non non potete spostare queste clip avanti e indietro e quindi perdere il sync ovviamente se ne avete bisogno potete disattivare questa impostazione clip per clip fate le vostre modifiche quando poi dovete esportare tornare indietro in adobe audition cliccate su file andate su esporta mix down multitraccia tutta la sequenza ora voi potete scegliere se esportare tutto l'audio come un unico file audio oppure se esportare le singole tracce una per una in maniera tale da poter avere in premiere tutte le tracce separate termina qui anche questo video tutorial mini firmato fabio ambrosi punto it mi raccomando se avete richieste particolari di tutorial e di argomenti che volete affrontare scrivete all'indirizzo tutorial chiocciola fabio ambrosi punto it visitate il sito internet www punto fabio ambrosi punto it per maggiori informazioni e se vi è piaciuto questo mini tutorial iscrivetevi a questo canale youtube e accendete le notifiche mi raccomando per restare sempre aggiornati grazie al prossimo video ciao